Ciao ragazzi, sono sul raccordo anulare, Guaprena ha preso il raccordo, la strada è pulita come vedete intorno c'è neve, 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 mamma mia quanta neve che c'è e va bene per il momento è tutto ok, come vedete le strade sono pulite quindi si viaggia tranquillamente, è impressionante vedere la neve intorno ma va bene così, ora proseguo il viaggio, a metà strada ne farò un altro di mini video e così vi terrò aggiornati sull'ambara d'anqua dell'autostrada comunque c'è sole, molto sole, viva Dio c'è sole, speriamo che non ne vighi più perché ormai non ne abbiamo avuto abbastanza tutti, vero? allora un bacio, a dopo, ciao